Ciao, sono Erika, sono titolare di una scuola di ballo a Vicenza e oggi sono qui in una giornata di formazione Corsi Pieni, una giornata molto interessante perché oggi abbiamo visto come si utilizzano gli strumenti di Facebook, come ottimizzare le nostre sponsorizzate e per noi ha un valore enorme. Sono stati consigli e dritte importantissime che sicuramente utilizzeremo e sono molto preziose. Grazie a tutti.